Ogni set ha una formazione diversa. Non lo sono scritto perché se non me la dimentichiamo. Tribuola esclamativa. Raffa sta mettendo le scarpe. . 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 Grazie a tutti! No! 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 Adesso sei stampia di Cepso game! Di pare! No! 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 Go! That was it, that was it! Superb! That is great! Yes!